La Toscana è la regione più boscosa d'Italia, il polmone verde della penisola e al termine di un luglio difficilissimo con 216 incendi che hanno percorso 955 ettari di vegetazione, il presidente della regione Enrico Rossi ha visitato insieme all'assessore alle foreste Marco Remaschi e all'assessore all'ambiente Federica Fratoni il centro della pineta di Tocchi a Monticiano, l'unica struttura in Italia specializzata nell'addestramento antincendi boschivi. In questa sede nata dieci anni fa vengono formati ogni anno 1300 operatori provenienti anche da altre regioni e dall'estero. Il servizio antincendi della regione Toscana ruota intorno alla centrale operativa di Firenze in funzione 24 ore su 24 per coordinare gli interventi di 10 elicotteri, 600 mezzi terrestri antincendio e 4.900 uomini addestrati di cui 4.200 sono volontari, 500 operai forestali e 200 direttori delle operazioni. Io sono stato al loro fianco durante la settimana di fuoco che abbiamo avuto in Toscana e devo dire hanno dimostrato una grande capacità ma anche una grande passione, un grande amore per il loro lavoro, lavoro spesso dato volontariamente, gratuitamente e tutto questo fa sperare bene per il futuro. Il pesantissimo bilancio del luglio appena trascorso rende necessario investire ulteriormente nella prevenzione antincendi, fra gli interventi prioritari la realizzazione di nuovi viali parafuoco che bloccano la corsa delle fiamme e al tempo stesso agevolano gli interventi dei soccorritori e una suddivisione dei boschi in aree che possano essere meglio controllate. Vogliamo anche che il bosco torni ad essere un bosco che sta dentro una filiera di carattere economico e lavoreremo anche su questo intanto a cominciare dai nostri 110 mila ettari che appartengono al demanio regionale e al demanio statale. Adotteremo su questo subito alla ripresa una decisione della Giunta e quindi lavoreremo anche per fare entro l'anno una legge di riordino su tutta questa materia che parta dalla rivisitazione della nostra buona legge regionale.